I vigili del fuoco sono in prima linea per l'emergenza incendi, ma senza uomini e mezzi aggiuntivi è difficile il soccorso, come denuncia il sindacato autonomo di categoria. Alle 12 di oggi avevamo 770 interventi, di cui 441 per incendi di vegetazione. E proprio in ragione di ciò, nel pomeriggio alle ore 17, dopo aver dichiarato lo stato di vegetazione nazionale della categoria, faremo la conciliazione con il sottosegretario Gian Piero Bocci, delegato ai vigili del fuoco, per cercare di portare a casa più uomini, perché chiaramente abbiamo difficoltà a garantire il soccorso alla cittadinanza. C'è stato ieri detto, durante una riunione che abbiamo svolto col capodipartimento, che avremo 400 unità di potenziamento rispetto alle 1700 che ci erano state garantite. E questo è molto grave perché non saremo in grado di assicurare dall'altra parte un servizio all'altezza delle richieste del cittadino. Intanto, uno spiraglio si è aperto sul fronte dell'ordinamento del personale. Dalla riunione che riguarda la legge Madia e quindi la modifica dell'ordinamento del personale, abbiamo diviso le risorse che ci sono state assegnate, i 103 milioni di euro, stabilendo 87 milioni di euro con un assegno di specificità, che sarà parametrato in tre scaglioni, secondo l'anzianità e le funzioni che svolge il personale. E i restanti 16 milioni, chiaramente, li destineremo all'ordinamento del personale. E a fine mese si apre la trattativa per il rinnovo del contratto che il pubblico impiego attende dal 2009. Proprio in ragione della specificità che rappresentano i vigili del fuoco, le 85 euro che oggi hanno messo a disposizione per il rinnovo del contratto sono, purtroppo, esigue, sono basse. E allora vorremmo che nella legge di stabilità vengano assegnate ulteriori risorse per permettere di definire un contratto dignitoso. E' chiaro che questa deve essere la scommessa in cui deve ricompattare tutto il mondo sindacale e le istituzioni dovrebbero, su questo aspetto, attraverso una direttiva di governo, chiaramente dare più risorse ai vigili del fuoco. Perché poi, alla fine, solo attraverso delle risorse, potremmo garantire quegli istituti che da tempo, purtroppo, non riusciamo a definire.